Buongiorno, allora quest'oggi mi voglio dedicare a un video piuttosto lungo però è quello che mi avete richiesto maggiormente per cui andiamo subito a eseguirlo si tratta di come rendere più veloce una bicicletta elettrica ci sono vari livelli su cui si può lavorare per cui vediamo e iniziamo di lavorare su tutti i livelli dai più semplici ai più radicali allora partiamo subito da dire che ci sono svariati modi in cui si può modificare una bicicletta per farla andare più veloce la prima è assolutamente lavorare sulla centralina che però è anche una cosa abbastanza delicata quindi guardiamo quali sono le operazioni più semplici da fare e poi andiamo eventualmente a quelle un pochettino più complicate come vi dicevo abbiamo dapprima alcune modifiche che possiamo fare sulla centralina poi ci sono alcune modifiche che possiamo fare sulla batteria più in dettaglio nel BMS ma non solo vediamo però di fare tutte queste modifiche soprattutto in sicurezza e quindi fare un lavoro fatto abbastanza bene ma sempre in ottica del risparmio quindi cercheremo di utilizzare componenti da veramente pochi soldi e quindi di tenerci le nostre cose perché altrimenti si fa presto si prende una centralina nuova, un BMS nuovo, una batteria nuova ma a quel punto si fa prima a comprarci una bicicletta nuova che vada più veloce invece noi vogliamo tenere gli stessi componenti conservarli e quindi vedere di risparmiare qualche suddino allora, anzitutto cerchiamo di capire come funziona una centralina facciamo prima una doverosa premessa esistono svariati tipi di centraline prevalentemente si dividono nell'uscita del motore in due filo, tre filo o in questo caso otto filo in cui i due filo vanno alla bobina del motore oppure tre filo vanno alla bobina del motore oppure in questo caso otto filo quindi tre più cinque vanno al motore i cinque sono per i segnali dell'effetto all quindi dei sensori di all i tre sono per le tre bobine ma ci sono alcuni casi di alcuni motori che vanno soltanto a due bobine vediamo subito come funziona allora, dando una prima occhiata vediamo che si parte dall'ingresso che va sul condensatore che in questo caso fa solo da stabilizzatore non è che ha una reale ed effettiva funzione di un qualche tipo che mi va al MOSFET MOSFET ne abbiamo due uno di accensione e uno invece di trasformazione del segnale da 36 a 5 volts tutta la logica programmata della centralina funzionerà con questo segnale di 5 volts qua giù abbiamo i MOSFET di uscita che sostanzialmente non regolano nulla ma aprono o chiudono nel momento del segnale nel momento in cui ce n'è bisogno quindi quello su cui lavorerà la centralina è dare l'impulso nel giusto momento alle bobine sono in questo caso 6 perché sullo stesso filo quindi ad esempio qua giù abbiamo il blu questi sono i primi due nello stesso filo ci passerà una volta al positivo una volta al negativo così da avere questo segnale che scorre sulle varie bobine quindi vediamo un attimino com'è che si può lavorare sulla centralina la prima modifica consiste nel voltaggio di lavoro ovvero il come si diceva il segnale su cui lavora la logica programmata della centralina è un 5 volts quindi possiamo avere vari tipi di segnali quella ad esempio del pass dovrebbe essere un segnale a impulsi esempio 5 5 5 5 5 quindi si può lavorare in due modi ora o si conosce la logica della centralina oppure si va un attimino a tentativi il primo modo ad esempio sarebbe quello di aumentare la frequenza quindi noi diciamo alla centralina la inganniamo dicendoli che non facciamo più un tot di velocità di pedalate ma gliene stiamo dando un altro tot come fare questo? ci sono svariati modi il più semplice è cambiare il dischetto dei magneti al sensore di pedalata assistita quindi se io aumento il numero di magneti aumento il numero di pedalate che starei dando quindi faccio finta di andare più veloce questo dovrebbe essere un segnale aperto a 5 volts quindi 5 5 5 5 5 che va ad aumentare non sempre una prima modifica si può fare ad esempio sulla velocità se abbiamo il manettino se abbiamo l'acceleratore noi diamo un segnale modulato da 0 a 5 volts però non è mai del tutto 5 c'è sempre una piccola perdita quindi un'altra modifica potrebbe essere andare a mettere in cortocircuito il segnale di uscita dei 5 volts dal segnale di alimentazione più 5 volts anche questo può fare aumentare la velocità ma non in tutti i casi queste sono le cosine un pochettino più semplici andiamo a vedere invece qualcosa di un pochettino più strutturato diamo ad esempio più potenza di uscita al motore perché visti questi cavetti ci potrebbe essere una dispersione della potenza e quindi anche se noi facciamo uscire dalla batteria magari 10 ampere non è detto che questi 10 ampere arrivino effettivamente al motore aumentare la corrente che riesce a passare nel filo vuol dire aumentare la potenza che poi scorrerà nel filo del motore e quindi vuol dire più potenza al motore per fare questo possiamo ad esempio andare a rinforzare le piste qui dietro che portano la corrente ai mosfet o ancora un'altra cosa aumentare il numero di mosfet cioè noi questi qua giù ne possiamo prendere altri e metterli tutti in parallelo allo stesso un po' come avere tre mosfet uno sopra l'altro qua giù tre mosfet uno sopra l'altro qua giù ne possiamo prendere due, tre, quattro, cinque quanti ne vogliamo li possiamo mettere per lungo in parallelo o li possiamo mettere uno sopra l'altro non cambia assolutamente nulla mi raccomando cerchiamo di rinforzare le piste così che la corrente possa passare comunque sia in sicurezza un altro cambiamento che posso consigliare di fare è cambiare i fili di alimentazione e mettere dei fili anche qua giù un pochettino più robusti se no possiamo lavorare anche sulla batteria vediamo come qua giù il lavoro che possiamo fare è sostanzialmente lo stesso cioè andare ad aumentare la potenza di uscita della batteria ovviamente sempre se le pile ce lo permettono e questo è una parentesi a parte che poi andiamo a controllare se le pile ce lo permettono possiamo anche qua giù aumentare il diametro del cavo in modo tale da far passare più corrente e in questo caso abbiamo due mosfet di uscita possiamo aumentare il numero di mosfet così da avere ancora più potenza anche in uscita per quanto riguarda l'uscita potremmo volendo bypassare i mosfet e mettere diretto al cavo della batteria sempre se la centralina si ferma a un certo voltaggio altrimenti andiamo a rovinare inutilmente la batteria e quindi non conviene un'altra modifica un pochettino più complicata è questa cioè quella di andare a sostituire i magneti della calotta la calotta va all'esterno del motore il motore entrerà qui dentro e la calotta sarà tutta intorno al motore ne prendo un altro così che si veda come avviene questo è il motore questa è la calotta quindi una prima modifica potrebbe essere quella di cambiare i magneti ma personalmente non lo consiglio perché rischiamo di fare magari un pastrocchio se non si conoscono le specifiche di questi magneti non è così semplice non è che si va su internet e si comprano solo quelli più potenti ci sono delle specifiche da rispettare in alternativa si rischia di bruciare il motore ora se il motore è un motore come nel nostro caso ha 8 fili quindi ha 3 più 5 la centralina riesce bene o male ad assestarsi però non è una pratica che mi sento di consigliare in maniera come primo step un'altra modifica ancora che però è successiva a quella di cui abbiamo parlato è successiva a tutte quelle che finora abbiamo detto è quella di tagliare la calotta perché per via dei campi magnetici prodotti dal motore se questo qua giù è più esterno quindi più lontano quindi anziché essere dentro io lo tengo all'esterno in maniera distante girerà più veloce scapperà più veloce ora la controindicazione è che andare più veloce vuol dire meno potenza ma se noi abbiamo fatto tutte le cose che avevo detto prima noi in realtà abbiamo dato molta più potenza quindi mantenendo la stessa potenza abbiamo però molto più velocità di girare questo altre modifiche che possiamo fare sempre abbastanza semplici ma poco influenti sono ad esempio un po' come le modifiche alli spinner andare a togliere i parapolveri i parapolveri sono molto utili per quanto riguarda non farci entrare la polvere ma se noi vogliamo qualcosa di una velocità istantanea un pochettino più veloce vada bene se parla di 2 km orari a dire tanto su tutta la velocità della bicicletta possiamo togliere tutti i parapolveri spruzzare anche un po' di lubrificante e questo farà sì che il cuscinetto giri in maniera ancora più fluida e quindi con meno sforzo vada ancora più veloce si parla di meno attrito chiamiamoci un attimo a una doverosa considerazione le biciclette elettriche sono state fatte, costruite e testate in quella maniera quindi è un pochettino assurdo andare a fare tutte queste modifiche ma sono modifiche che noi possiamo fare per raggiungere gli step successivi ovvero una bicicletta elettrica hanno svariati step di velocità una di questi sono i 25 km orari poi i 33 km orari poi i 45 km orari poi i 50 km, poi i 60 km, poi i 72 km sono velocità più o meno prestabilite in funzione di che tipo di motore utilizziamo che tipo di centralina utilizziamo che tipo di magneti utilizziamo eccetera eccetera quindi possiamo portarla allo step successivo consideriamo che più va veloce la bicicletta più consumerà e quindi meno vi durerà la batteria una modifica semplicissima da fare alla maggior parte delle centraline è quella che non lavorano col TXRX quindi il segnale che si vede che va allo schermo noi prendiamo il segnale che va allo schermo e ce ne sarà uno che di solito è di colore verde che è quello del segnale della velocità ovvero di solito è scritto sul guscio della centralina che a tot voltaggio c'è una gamma equivale a una velocità ad esempio la gamma potrebbe essere tra 1,5 e 4,2 volts quindi 4,2 per la centralina è il massimo quello che possiamo fare è mettere questo segnale che in questo caso è quello verde qua giù c'è scritto PQR questo segnale qua giù lo cortocircuitiamo con il positivo del 5 volts quindi è come se noi dicessimo alla bicicletta di andare al massimo perché siamo già alla massima potenza non tutte le centraline funzionano alcune lavorano solo sulla gamma che hanno quindi se il massimo è 4,3 il massimo che noi li possiamo dare è 4,3 sopra non lo riconoscerà nemmeno lo vedrà come un 4,3 però sono tutte cosine che possiamo eventualmente andare a fare una cosa ben più difficile ma anche quella la possiamo fare è ad esempio andare a prendere il segnale perché questa è la nostra logica programmata la nostra logica passa uno di questi piedini passa da una resistenza e poi arriva qua giù quindi noi questo voltaggio che noi gli stiamo dando gli stiamo abbassando ancora la tensione se non vogliamo prendere il segnale qua giù un'altra cosa ben più difficile che possiamo fare è prendere il segnale prima della resistenza attenti perché rischiamo di bruciare la logica quindi non è una cosa che vi consiglio lavorare su 5 volts è molto molto difficile qua giù i segnali di solito sono dipende dal protocollo di comunicazione però di solito sono vicini al volts e basta cioè 1 volts 1,2 però dipende dal protocollo di comunicazione potrebbe essere anche inferiore all'1 volts però qua giù le arriva sicuramente una potenza diretta cioè se il nostro segnale da 5 deve essere abbassato a 1,2 perché 1,2 è il massimo che lei legge dargli qua giù 1,2 ad esempio potrebbe essere comunque sia migliore che non dargli 5 volts qua giù perché 5 potrebbe non essere molto stabile perché il voltaggio dipende in gran parte dal voltaggio di ingresso che noi abbiamo sulla batteria che viene ridotto a 5 ma se la batteria è scarica potrebbe non essere proprio proprio 5 ma 4,8, 4,7 la centralina funziona uguale ma il segnale che riceve non è proprio proprio lo stesso e quindi tende ad andare un pochettino più piano questo è uno dei motivi per cui a batteria scarica la centralina, la bicicletta va un pochettino più piano va un pochettino più piano